Narcotizzava gli anziani e li rapinava, così aveva messo a segno 12 rapine a Roma. Per questo è stata arrestata una 51enne, NG le sue iniziali, originaria di Arezzo, già condannata circa 20 anni fa per omicidio preterintenzionale a 11 anni. Insieme a lei è stata arrestata la nuora, ML Trentenne, con l'accusa di essere responsabile anche lei di rapine compiute ai danni di anziani. Un modus operandi che non sarebbe nuovo per la donna, l'anziana vittima dell'omicidio per cui era stata condannata, era morta proprio a causa della somministrazione di sostanze psicoattive, in particolare benzodiazepine.